Frequenta la scuola di recitazione di Doricei di Firenze. E poi nel 1970, al Teatro Studio del Teatro Metastasia di Prato, ottiene la sua prima scrittura in una produzione di prosa. Da Garinei e Giovannini, l'attività di attore teatrale prosegue al Teatro Stabile di Torino lavorando con Franco Enrique Sed, Aldo Trionfo, negli anni 70, nel periodo delle cooperative teatrali. Entra a far parte della cooperativa di Gabriele Lavia, la G, S, T, e poi nella compagnia Il Cigno. Dopo alcune esperienze nel cinema, Marcone incontra Paolo e Vittorio Taviani, dai quali, dopo il provino, ottiene la parte di Gavino in Padre Padrone. Film che gli vale il palmarès al Festival di Cane e il nastro d'argento al migliore attore. Esordiente, Padre Padrone è l'inizio della carriera cinematografica. Lavora in numerosi film diretti da Gillo Pontecorvo, Luigi Comencini, Pasquale Squitieri. In televisione lavora in alcuni sceneggiati. Si sperimenta come regista teatrale con un piccolo gruppo marchigiano non professionista. Da questa esperienza nasce a Tolentino la scuola di recitazione di cui è ancora oggi direttore. Artistico è, poi, la compagnia dell'arancia in cui è attore, regista, autore, produttore e direttore artistico è, dal 1988, firma la regia dei musicals La piccola bottega degli orrori. A chorus line con Antonella e Lia. La casa aux folles, cabaret, musical, dolci vizi al foro, a funny thing happened on the way to the forum, west side story, cantando sotto la pioggia, sette spose per sette fratelli. Le notti di cabiria, grease, musical, ello, dolly, musical, a qualcuno piace caldo, dance, e, pinocchio, nel 2000 realizza, dance, suo primo musical originale, nel frattempo dirige due musical a Parigi per il teatro Follisberger e da Broadway. La fringe presentation del musical originale Mac Gregor. Sperimenta nuovi generi. La regia delle opere liriche Don Pasquale al teatro Gentile da Fabriano nel 1996 e l'Elisir. D'amore allo sferisterio di Macerata nel 2002 di cui esiste un video. La regia del concerto di Gianni Morandi, come fa bene l'amore. La regia di uno spot pubblicitario e un progetto cinematografico con Susanna Tamaro e Roberta Mazzoni. Nel 2003 al 2008 direttore artistico del Teatro della Luna di Milano dove mette in scena il colossale Pinocchio con le musiche dei Poo. Cura l'edizione in concerto di Nine. Musical, in versione italiana. Il musical ispirato a Otto e un mezzo di Federico Fellini e dirige l'opera lirica Le donne curiose. Opera, di Ermanno Wolf Ferrari con Bruno De Simone Riccardo Zanellato al Teatro Filarmonico. Verona, nel 2003, nel 2005 dirige la versione italiana del musical The Sound of Music. Realizza la nuova edizione di Cenerentola. Commedia musicale per bambini tratta dalla fiaba di Perro. Nel 2006 dirige la versione italiana di The Producers. Musical, di Mel Brooks e firma la regia di Sweet Charity. Nel 2007 realizza una nuova versione di Cabaret con protagonista Michel Unzichere il riallestimento de Il Giorno della Tartaruga, in omaggio a Garinei e Giovannini. A marzo 2008 firma con Federico Bellone la prima produzione italiana di un musical Disney. High School Musical lo spettacolo. Nel 2009 è fisso come critico teatrale nella commissione del talent show Amici di Maria De Filippi. Nel 2009-2010 firma. Insieme a Daniele Rallau, la prima versione italiana del musical Cats. Musical, che risulta lo spettacolo più visto della stagione. Dati giornale dello spettacolo. Ages, a ottobre 2010. Pinocchio il grande musical è rappresentato a New York alla CAI e Playhouse. Cast partecipa alla sfilata del Columbus Day sulla Quinta Strada. Nel 2011 Saverio Marconi è tornato a proporsi come attore di prosa. Interpretando variazioni enigmatiche di Eric Emanuel Schmitt. Sotto la regia di Gabriela Eleonori. E a dirigere uno spettacolo di prosa. Rain Man, tratto dall'omonimo film, nel 2012 dirige la nuova edizione di Grease e il debutto nazionale del musical Frankestein. Junior.